Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo su Counter Strike Global Offensive e oggi sono su questo gioco proprio per presentarvelo e fare una piccola partita su quest'ultimo e volevo scegliere una partita corsa alle armi, visto che è la modalità diciamo più frenetica del gioco e magari che offra più possibilità di gameplay volevo proporre una competitiva, visto che probabilmente è una di quelle dove gioco meglio, dato che è molto tattica, non devi muoverti troppo, i tuoi riflessi servono in poche occasioni però per il gameplay penso che il gruppo corsa alle armi sia la migliore delle opzioni e adesso cerchiamo la partita e ci ritroviamo quando la inizierò ho trovato la partita, ero entrato in una partita che era già iniziata quindi ho deciso di trovarne un'altra e ricominciare ed eccoci qua, adesso inizia finito il riscaldamento, magari abbasso un po' il volume perchè mi sta trapanando le orecchie ed eccoci è cominciata la partita prima arma PP Bison non è una brutta arma, solo che non la utilizzo più di tanto primo andato e il secondo questo mi fa esattamente ecco diciamo che il brutto di questa modalità è che ti spuntano da ogni parte non è che ci sia un preciso punto da dove dove ti possano arrivare però è anche il bello quindi bisogna essere sempre riflessi pronti, attenti come in questo caso solo che io non riesco a capire una cosa ad esempio quando io divento rosso ho capito che sono sputtato sulla mappa ma non riesco a capire il motivo cioè non si può sputtare in questo gioco come vedete quello lì credo che era sputtato di rosso se lo eliminassero questa cosa magari forse la modalità sarebbe uno di salute che culo sarebbe un migliore perchè come vedete se io adesso so che un colpo mega headshot no però ero rimasto con uno di salute eh ho sbagliatissimo siamo metà classifica un po' indietro buona l'ho fatto e usciamo da qua non c'è nessuno ma non ho capito se era dietro di me o meno ma cambiare la foto profilo no ecco ancora lui siamo indietro tanto troppo troppo avevamo iniziato anche bene e ci siamo persi in chiacchiere vai famas buono e ho finito i colpi non me ne ero accorto vabbè vabbè siamo a tre dietro da dove eh SG non so cosa non so cosa sia l'SG con l'arma lì però boh deve essere qualcosa un mitra un fucile credo buono buono K buono siamo in furia omicidia ma ci siamo fermati siamo a cinque magari possiamo recuperare un po' a meno che non ci facciano spawn kill sempre quel cinese di merda che brucierei vivo o coreano che cazzo non è possibile questi qua sono già i cecchini e quindi ci arriveranno abbiamo perso signori no no vabbè questo no siamo ancora presto prima che finisca la partita ma ma sto buono credo che sia l'SG infatti anche un'altra brutta cosa che quando responi c'è questa copertura ecco canne mozze che è l'arma con cui ho più difficoltà perché se non sei vicino ecco è dal muro eh ho visto quello sopra pensavo che a me siamo a sette buono vai 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 adesso qua a destra eh mi aspettavo mi aspettavo eh SG vabbè precisione quanto siamo? otto male male fai no vabbè ma bella eh l'avevo visto ma sbagliato eh quanti erano oggi già bene è finita eh siamo arrivati quarti vabbè niente è andata così ci vediamo per un prossimo video ciao ragazzi arrivare ho vabbè la